Nome? Vito. Cognome? Elia. Età? 23 anni tra un mese. Città natale? Fuorio di Ischia. Lavoro? Lavoro faccio il barman, almeno ci provo. Classico o freestyle? Freestyle. Perché? Beh perché ormai è l'evoluzione della specie, un certo senso è arrivato al freestyle, ci divertiamo, ci divertiamo a divertire il pubblico, questa è la cosa bella. Nome del locale? Dolce vita. Cosa ti piace del tuo lavoro? Un po' di tutto, l'interazione con il cliente, la passione che ci si mette, i ragazzi che si acchiaffano facendo questo lavoro, un po' di tutto, è il misto. Hobby? Faccio calcio, palestra, università, anche un hobby perché non ci vado quasi mai, ci sono tante cose. Il nome del tuo cocktail? Si chiama King. Perché dovresti vincere tu? Beh perché sono un ragazzo solare, simpatico, potrei rappresentare bene l'absoluto. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Votate, votate, votate ragazzi. Fai un saluto? Ciao!